Buongiorno e buona domenica. Domenica 9 gennaio caratterizzata dai rientri dal lungo ponte dell'Epifania e più in generale da ritorno in città dalle vacanze di Natale e di Capodanno. In questo momento abbiamo una circolazione regolare ma condizionata dal maltempo con precipitazioni diffuse e anche nevose a quote basse. Peraltro c'è un'allerta meteo su ben in sette regioni da parte della protezione civile su Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Oggi gli spostamenti sono anche agevolati dallo stop ai mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22. Abbiamo una criticità legata alla neve e sta nevicando su molti tratti tra cui la 15, la Parma, la Spezia ma anche la 7, la Milano, Genova e in questo momento ci sono dei rallentamenti anche in Sicilia perché sta nevicando anche in Sicilia su molte strade e abbiamo la nevicata in atto sulla strada statale di Cesano tra San Fratello e Cesaro e poi abbiamo un incidente sull'Appennino meridionale tra Potenza e Armento. Mi fermo qui, grazie per attenzione, a voi tutti una buona domenica, arrivederci.